Buongiorno, benvenuti, io sono Cristina Piccilini, lavoro presso il Dipartimento Educativo della Cineteca di Bologna a Schermi e Lavagne e abbiamo deciso quest'anno di organizzare questo omaggio a Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, un po' a memoria perché quest'anno ricorreva il novantesimo dalla nascita di Giulio e il decimo anniversario della morte di Lele Luzzati e per cui abbiamo deciso di inserire all'interno della sezione Kids del Cinema Ritrovato questo omaggio proprio a questi due grandissimi autori. Per fare questo abbiamo invitato quelli che secondo noi erano un po' anche i massimi esponenti e persone che comunque avevano ruotato intorno a queste grandi figure di Luzzati e Gianini e per cui intanto presento gli ospiti che sono Carla Rezza che è la moglie di Gianini, Sergio Noberini che è il direttore del Museo Luzzati di Genova e Paolo Eric Rittatore che invece è qui come presidente dell'associazione Cartoon che è un'associazione che è nata intorno al critico cinematografico e storico Gian Alberto Albertazzi Tutto il giorno che lo sbaglio scusate, veramente scusate Bendazzi che ci è nata, questa associazione, l'associazione Cartoon è nata intorno proprio a Bendazzi a Genova ed è nata da un gruppo proprio di appassionati di animazione, di professionisti che lavoravano nel campo dell'animazione che in qualche modo ci farà poi una visione del cinema di Gianini e Luzzati attraverso un'analisi un po' più critica, mentre i primi due ospiti sono qui per raccontare e poi portare anche un po' una testimonianza. Carla in prima persona perché ha vissuto con Giulio e ha raccolto anche quello che è il suo lavoro, l'ha visto lavorare e soprattutto perché Giulio era anche considerato uno estremamente preciso e meticoloso nel suo modo di fare animazione, è anche vero che per essere un animatore bisogna essere precisi e meticolosi e poi invece Sergio che ci racconterà un po' quello che è il museo Luzzati, quello che è un po' la sua mission e quello che stanno facendo da dieci anni a questa parte perché poi il museo ormai sono dieci anni, giusto che è nato? Diciassette. Diciassette? Ah, ok, ho preso un dato sbagliato allora, sì. Ancora vivissimo ancora. Un po' che si stupiva e diceva, ma sono proprio fortunato, in genere i musei li fanno quando uno è morto. Infatti per quello forse avevo pensato dieci anni perché avevo pensato dopo la morte invece è nato prima il museo per cui è ancora più interessante l'esperienza questa del museo. Come adesso io racconterò veramente brevissimo, poi lascerò la parola a loro, come animici e collaboratori per tantissimi anni, Gianini e Luzzati hanno lavorato insieme, calcolate 37 anni, hanno realizzato 30 film insieme tra opere su commissione, per cui quelle legate più al mondo della RAI e della televisione svizzera o magari per titoli di testa, pubblicità, invece a film di grandi autori, cioè proprio di autore, come magari invece più la Gazzaladra, tutto l'omaggio Rossini, la Gazzaladra, l'italiana d'Algeri, il Turco in Italia, poi l'opera buffa che non è mai stata compiuta ma di cui oggi vedremo un piccolo estratto perché abbiamo il duetto di gatti in programmazione oggi e abbiamo proprio pensato di fare questa rassegna che cercasse in qualche modo di raccontare il lavoro di Gianini e Luzzati insieme ma anche il lavoro di Gianini come direttore della fotografia, infatti questa mattina abbiamo proiettato in sala scorsese alcuni lavori con Zurlini e con Renzi e poi proietteremo sempre all'interno della rassegna i lavori fatti tra Gianini e Leo Leonni, chiuderemo la rassegna proprio invece sabato con tutta la parte dedicata più alla pubblicità e i lavori che sono stati fatti con altri grandi autori perché poi Gianini lavorò oltre che con Leo Leonni, lavorò con Folone, lavorò con Abbado perché poi c'è anche tutta la casa dei suoni, il lavoro con Abbado, per cui fu un autore che lavorò veramente a 360 gradi sia nel cinema di fiction che nel film invece d'animazione per cui in questa rassegna abbiamo cercato di, con il tempo e lo spazio che avevamo di raccontare un po' tutto questo lavoro e soprattutto il Sudalizio con Luzzati che è stato uno dei più importanti, come dicevamo, durato 37 anni e più di 30 opere insieme. Io direi di... Scusami, da ricordare che nel dopoguerra e anche dopo fu considerato uno dei migliori direttori della fotografia del cinema dal vero e documentario e soprattutto forse l'operatore diciamo di riferimento per l'uso del colore. Sì, vinse il nastro d'argento a solo 25 anni. A solo 25 anni, sì sì, e insegnò probabilmente a molti all'utilizzo della pellicola a colore. Ma penso fosse vero. Gianini fu anche un grande insegnante perché insegnò per moltissimi anni poi il centro sperimentale a Roma. Io adesso direi di lasciare invece la parola agli ospiti, partirei con Carla che ci racconta magari qualche cosa sul lavoro di Gianini, su questo essere così meticoloso, così preciso e lavorare contemporaneamente con un personaggio invece come Luzzati che era molto più estroso, più difficile forse da gestire, no? No. No. Bene. Lascio. Prefegisci. Mi sento più importante. Quando la Cineteca mi ha contattato per questo omaggio a Gianini sono stata molto contenta perché siccome c'è questo grande malinteso che quando si parla dei film d'animazione loro si dice sempre l'animazione di Luzzati e invece l'animazione è prevalentemente Gianini, quindi sono molto contenta. La cosa non lo turbava affatto, nel senso che non gliene importava niente che si dicesse i film di Luzzati invece che di Gianini e Luzzati. Era più Lele preoccupato di questo, infatti ci teneva molto a dire no, i film sono più di Gianini che i miei, eccetera. Però in realtà la loro è stata una condivisione totale, era veramente un lavoro quattro mani, c'era una simbiosi perfetta, non li ho mai sentiti in contrasto, un vero contrasto, l'unico vero contrasto fu poi quando affrontarono l'opera buffa e che non si fece perché erano assolutamente in disaccordo su come andare avanti. Però loro condividevano proprio questa visione giocosa del lavoro, di questo lavoro. E poi c'avevano un grande senso dello humor, erano due assolutamente, come posso dire, proprio complementari sì, ma anche modesti, nel senso che non è che dicerano adesso stiamo facendo l'opera della vita, no, erano anche un po' secondo me incoscienti, per esempio quando si sono lanciati nel flauto magico, che dura 52 minuti, è vero che ci sono delle interruzioni con un attore vero, papagheno, che spiega questa trama così un po' assurda, però siccome loro hanno sempre lavorato, loro due, un'altra persona, quella fu una specie di colossal, gli prese due anni della loro vita, però me li ricordo ancora nella strada, lì nel quartiere Prati, vicino alla Rai, via Le Mazzini, dove c'era lo studio, li trovo tutti con l'aria, come i bambini che hanno rubato la marmellata, e dicono, stamattina abbiamo cominciato il flauto magico, così d'amblè, anche quello era un, tutte, spesso le loro cose venivano da lavori precedenti, di Lele, Lele aveva fatto un magnifico flauto magico, molti anni prima, per il Festival di Gleimburg, con la regia di Enriquez, però questa cosa gli era rimasta in testa per anni a tutte e due, nel senso che mio marito non solo faceva l'animatore, cioè creava i movimenti, perché non bisogna pensare che, con la tecnica specialmente che usavano loro, cioè il decoupage, di carta ritagliata, lui vedeva prima la sequenza che poi avrebbe girato, è vero che con Lele, sia al telefono, sia quando veniva a Roma, discutevano su che cosa da fare, ma quello che vedrete, per esempio, la danza della gazzaladra, oppure i carabinieri che diventano drago in pulcinella, tutta questa, poi questa grande musicalità di Giannini, è sono opera dell'animatore, cioè quello che crea il movimento. Chiaramente poi Luzzati gli offriva questa tavolozza fantastica e quindi erano un duo in quegli anni, insomma, imbattibile. Era un lavoro veramente fatto a mano, perché intanto mio marito, scusate se continuo a dire mio marito, ma mi viene buffo a dire Giannini, aveva creato le macchine, cioè i banchi di animazione, li aveva creati lui, sia quello con cui hanno girato gazzaladra, pulcinella, sia quello con cui hanno girato il flauto magico, che aveva quattro o cinque, come si dice, piani di livelli, per avere questo effetto di profondità. E io me lo ricordo, questa enorme macchina, che non è quella che si vede qua, perché questa è quella piccola, diciamo che è stata al Museo Luzzati, in costruzione negli anni, negli anni e negli anni, finché alla fine, quando è stata pronta la macchina, loro si sono buttati in questa avventura. Avventura in cui si sono buttati anche per quanto riguarda l'opera Buffa, perché se voi leggete i pezzi di carta che ho per casa, che dovrebbero essere dei trattamenti scritti a mano regolarmente da Lele, era ancora più grandioso il progetto, era proprio una storia dell'opera italiana, quindi c'era l'opera Buffa, l'opera seria, le guerre, tutti i vari personaggi. Poi sono arrivati a più miti consigli, hanno deciso di fare solo l'opera Buffa e ne hanno girati cinque, sei minuti, perché poi uno, Luzzati, diceva no, procediamo a seconda della musica dei pezzi, e l'altro diceva no, ho bisogno di una sceneggiatura. Insomma, questa cosa poi non si è più fatta. Diciamo che lì è stata il grande divisione, cioè loro hanno continuato ad essere amici, anche a lavorare insieme, ma non hanno più lavorato come lavoravano prima, cioè a braccio, così, come veniva, con i soldi loro, facendo le domande al Ministero del Turismo e Spettacolo. dopo hanno sempre lavorato su commissione, hanno fatto Gerusalemme per il Museo della Storia di Gerusalemme, hanno fatto questo film per Abado, che tra l'altro è stata la loro ultima opera, insieme, perché è del 93, e mi ricordo che appunto avevano, Abado compì 60 anni mentre loro giravano, e gli regalarono una delle tavole, che poi si vedono nel film, con la, con la, una sirena, adesso non mi ricordo, ma insomma, sì, sì, e poi insomma, proprio ieri era il compleanno di Abado, perché ho visto qualcuno che lo ricordava, che era nato il 26 di giugno, mi ricordo che era estate, infatti, Daniele Abado, il figlio che era il regista del film, venne a prendere questa tavola, per regalarla al padre, che era in Sardegna, nella sua casa vicino al Ghero, e poi, infatti, dopo questa, diciamo, interruzione, più o meno, del loro rapporto continuativo, che c'era stato fino allora, mio marito, continuò a fare delle cose con, con l'Ionni, assieme alla loro allieva e amica, Antonella Batiello, che è stato veramente il braccio destro, di tutte e due, perché era sia disegnatrice che animatrice, però, lei stessa dice, ma sai, io gli chiedo, ma in realtà, perché io poi in realtà invece, io non li ho mai visti lavorare insieme, vedevo che discutevano, magari parlavano, ma l'atto, io, siccome lavoravo, avevo un altro lavoro, e lei invece stava lì e diceva, ma in realtà, come andavano avanti? Dice, ma guarda, io non lo so, perché non è che parlavano molto, si capivano evidentemente con un altro linguaggio, un linguaggio muto, che non c'era bisogno di, ormai dopo tanti anni, probabilmente era vero, e con Lioni il rapporto era molto diverso, era, Lioni era un tecnico, era un grafico, era tutto molto preciso, Lel era sempre uno, invece che ne so, faceva un disegno, poi era distratto, girava la pagina, e faceva un altro disegno, sulla seconda pagina, per cui non si trovava più sto disegno, dove aveva messo il disegno? No, no, quello no, è che girava il foglio, e lo usava per un'altra cosa, mentre, poi, ovviamente lui partiva, stava fuori, quindi anche mio marito, che era un abile disegnatore, doveva fare alcune, molte dei Pulcinella che vedete, della moglie Pulcinella, sono fatti da Gianini, non da Luzzati, perché Luzzati andava via, che ne so, c'aveva un'opera da una parte, da un'altra parte, quindi non c'era, comunque, sono stata fortunata, perché, testimone di questo rapporto, bellissimo, bellissimo rapporto, che si sta, sì, non so, se qualcuno vuole domandarmi, rispondo, qualche curiosità, sentiamo cosa ci può raccontare invece, ti devo far venire qui, perché devi utilizzare, spostiamo un attimo, io mi sposto, no, mi sposto a me, ancora bene, stai stendo, stai stendo, mi sposto, invece, adesso ci facciamo raccontare, a proposito di linguaggi, chiaramente, in parallelo, Luzzati amava saltellare di città in città, e diceva, vado a Roma, a fare il cartone animato, vado al Bissone, faccio la ceramica, vado per i teatri del mondo, illustro libri da casa, quindi diceva, in contemporanea, riuscivo a produrre, e ad essere curioso, nei vari ambiti, dove lui ha lavorato, poi tantissimo, quindi, nessun linguaggio era slegato, perché a volte partiva una committenza per il libro, dal libro ne nasceva uno spettacolo, o poteva nascere un film d'animazione, e c'era questo, suo carattere molto forte, che era legato al principio di curiosità, e aggiungo, artigianalità delle cose, cioè, lavorava e selezionava sempre, dicendo anche idee, no, importanti, a occasioni significative, nella vita, e nella sua professione, perché voleva poter fare le cose che lo aggradavano, il teatro della Tosse, che era il suo giocattolo, si chiamava lui quasi, quando era a Genova, quasi tutti i giorni, partiva da Castelletto, e aveva questo percorso, e diceva, quindi era un osservatore continuo, diceva che ogni volta che usciva di casa, dalla sua casa, dove si entrava dal tetto, che è una caratteristica, di questa zona di Castelletto, dove lui è nato, e dove poi è scomparso, scopriva qualcosa della città, quindi, e quando gli chiedevano, ma cosa consiglierebbe a dei giovani, per intraprendere una via d'arte, per intraprendere una professione, di essere curiosi, e di accettare tutte le sfide, perché ti portano sempre a delle conoscenze, per cui tu poi farai delle cose importanti, questo lo trasmise in una scuola di teatro, che è rimasta poi importante, preparò circa 24 allievi scenografi, che scelse tutti con un criterio, diamo dei caratteri del personaggio, che non avessero partecipato all'accademia, diceva, perché l'accademia li rovina un po', e quindi tutti i suoi colloqui, la sua selezione, e ne scelse solo uno legato all'accademia, bravissimo scultore, diceva, non capisco, vuole fare lo scenografo, non va mai in una sala di teatro, dice, forse ho sbagliato la selezione, quindi sempre curioso, e sempre in positivo. Torno alle schede, perché se no poi non si finisce più, e dobbiamo lasciare lo spazio, alla relazione vera, sul cinema d'animazione. Porta della creatività, perché la sede del museo, una porta, porta del molo del Cinquecento, che è appena stata celebrata da pochissimi anni, che era sulla cinta, sulle mura di cinta di difesa di Genova, quindi è un bastione stupendo, che è, su cui, dentro, si sono ospitate circa 30 mostre tematiche, e su cui va avanti, voluta fortissimamente da Luzzati, un'officina didattica, un cantiere delle arti, una sperimentazione, dove tutto ciò che è stata la sua esperienza, che lui poi ha trasmesso, ha curato, ha coordinato in vari momenti, oggi, eccola, è portata avanti da Elisa, che ha creato una metodologia, che viene esportata in diversa città. In questi giorni qui ci sono delle esperienze, di laboratorio. Allora, mi hai detto che si schiaccia qua. Ecco, metto alcune cose esemplari, così siamo più brevi e concisi. Giorgio Streler, nel 90, dà vita a un ciclo di mostre, a Parigi, al Boburg, sui grandi scenografi. Luzzati è uno di questi. Nel 93, finiamo tutti là, per alcuni mesi, in concomitanza con una grande mostra dedicata a Matisse. Lui disegna, fa il design della mostra, vuole una mostra per temi, ma anche molto per comprensione dei singoli soggetti, quindi il teatro per modulo, il teatro per dipinto, eccetera, eccetera. Con, chiaramente, il cuore di tutta la mostra, un teatrino, proprio, fatto da Gianni Polidori, mio amico scenografo, dove un grande pulcinella, non importa, un grande pulcinella, in braccio, un grande schermo, e tutti i film d'animazione, girano. È stata la mostra, in assoluto, più visitata, credo, quasi 40.000 visitatori, perché uno era gratis, e poi sopra c'era Matisse, diceva lui, e quindi, e così sentono la musica, vengono qua, e si divertono. Non è stato così, perché è stata molto apprezzata, e quant'altro. Streller di lui, con cui lui non aveva avuto un grande rapporto, per le produzioni di teatro, comunque, in introduzione alla sua mostra, dice questo, di fronte alle sue scenografie, si ha quasi l'impressione di finire mani, piedi e pensieri, dentro un sogno. Uomo artigiano, insistiamo molto su quest'idea di artigiano, perché, nelle sue citazioni, ha sempre detto, questo è lui nel suo studio, nella sua casa, semplice, accogliente a tutti, per cui era un riferimento, da Paolo Poli in giù, e i grandi registi, andavano da lui, per passare alcune ore assieme, soprattutto di convivio e di racconto, e poi anche di lavoro, dice, il lavoro viene dopo, prima bisogna incontrare le persone. Questa è fondamentale, nella comprensione dell'opera di Luzzati, perché dice, io mi sono sentito illustratore, non pittore, cioè, ho bisogno di un committente, di un qualche d'uno, che mi dica che vuole qualche cosa, e in base ai mezzi, e alla condivisione, si realizza, o lo spettacolo, o il libro. lo leggete, proseguo, fondamentale è questa frase, cerco di cogliere le cose più, c'è però anche chi dice, che le mie illustrazioni, sono sempre molto teatrali, che le mie scenografie, non sono troppo illustrative, che nei miei film d'animazione, si vedono troppi sipari, troppi palcos, non sta a mi aggiudicare, racconto come posso e come mi piace, e questo è diventato famosissimo, uno slogan, confesso che mi diverto, se poi riesco a comunicare anche col pubblico, a divertirlo tanto meglio, se no, pazienza, l'importante è essere se stessi, non si è mai fatto prendere da nessun tipo di moda, o da strani obiettivi, quando succedevano delle committenze, accadevano delle committenze importanti, tipo una volta per un'Aida, in una piramide, passò del tempo, questa piramide, e poi questa cosa, dopo un certo tempo, gli venne comunicato, non poteva essere realizzato, per limiti, non si scompose di niente, ah no, mi è arrivata adesso un'idea per fare un libro, quindi proprio non aveva questo mal dell'importanza, questo è il suo studiolo, le troupe, tutti quelli che volevano fare i video, su di lui, arrivavano e dicevano, maestro, dove è il suo studio, gli portavano una stanzetta, che era due per quattro, il tavolo era esattamente questo, le sue mani, leggevano, pigliavano, il pastello sembrava a caso, ma da quel pastello, o da quella carta che era qua dietro, dalle sue spalle, nascevano tutti i suoi disegni, i suoi progetti, chi sceglie per vocazione di dedicarsi all'arte applicata, ha una mentalità diametralmente opposta all'artista puro, usciva sempre questa cosa, e l'idea soprattutto, del valore del limite, ogni limite ha uno stimolo a fare, a creare, a esprimere fantasia, questo è il frattaro, ogni limite è imposto, un'illustrazione non fa che adattare la sua pittura, la sua scultura che sia all'opera in questione, qualche aneddoto, quando Genova decise nel 2000, Renzo Piano, la comunità ebraica, tutta la città, di affidargli il museo, disse, sempre disincantato, dice, ma secondo me mi hanno dato un museo, perché io non do fastidio ai pittori, che sono pieni di gelosie, io sono uno scenografo, quindi va bene che sia stato fatto questa cosa, questo perché la sua lettura era sempre di questo genere, molto giocoso e ironico, ci sono delle eccezioni, Picasso è il suo modello, tanti gli imputano anche i giovani critici, il fatto che è Chagall, perché c'è il volo, eccetera, eccetera, ci teneva molto a smarcarsi, perché in quegli anni di formazione a Lausanne, lui guardava tantissimo, non a Chagall, ma a Kandinsky, guardava a Parigi, guardava a Picasso, l'ho anche incontrato, e quindi la sua arte, soprattutto la ceramica, che è uno dei suoi linguaggi, dei suoi temi più amati, ma non conosciuti, diceva lui, ne ho fatto i chilometri, pensate che i suoi pannelli sono stati su circa 30 navi negli anni 70, 50-70, grandi arazzi sul flauto, eccetera, eccetera, finiti anche in fondo al mare, erano oggetti, erano manifatture, non era la decorazione della ceramica, come poteva fare Chagall, non portava un disegno su, e tutte le sue ceramiche sono degli oggetti di cui tutti godiamo nelle nostre collezioni, pupazzi, cavalieri, dame, con particolarità ceramiche di un laboratorio di Albissola, dove c'era tutto il mondo, da Fontana in giù a Lama, dove il crogiolo era vivacissimo, diceva, siamo, sono stato fortunatissimo, perché sono venuto nel mondo dell'arte dopo una guerra con un bisogno di riscatto, di voglia di fare che veniva proprio da un periodo travagliato e di sofferenze. Andiamo avanti, queste sono delle sue opere, lasciamo, sto andando indietro, sì. Andava bene? Andava bene? Eccolo qua. Il concetto di condivisione è fondamentale nel suo lavoro, noi artisti applicati giochiamo sempre con qualcuno, Carla citava il fatto che era un lavoro a quattro mani e fondamentalmente era così e lui si disappuntava forse più di Giugi quando dicevano i film di Luzzati, mi ricordo a Lucarno, a Belinzona, quando c'è... Lui era... Severo su questo, cioè il film è frutto di un lavoro fatto assieme con un altro e questo lo pensava con l'editore, lo pensava con il regista, i suoi registi più fedeli erano da Poli a Trionfo, a Fersene, tutti i grandi registi con cui c'era scambio, non c'era, diciamo, il vero artista, anche se forse lui sulla fantasia poteva essere uno un po' più avanzato e quindi questa idea di collaborazione, di condivisione lo ha avuto fino alla fine della vita. Non accettare ciò che non ci stimola e certe volte il rifiuto di un lavoro che non ci soddisfa può essere quasi altrettanto appagante della realizzazione di un'opera. Si vantava mentre diventava più grande, si dice, si vantava di poter dire sono proprio contento riesco a dire anche dei no perché in passato dicevo un po' di sì a tutti dal comune che gli chiedeva i bozzetti per il palazzo Ducale a chi gli chiedeva i disegni per le animazioni poi lavorando anche con grande fertilità spesso non si ricordava neanche di aver affidato queste cose ma vedete mi usano i disegni e non mi dicono niente guarda che forse non è così tanto per raccontare lo spirito di quest'uomo che è stato generoso e le case sono tutte di una ricchezza che ci stupisce e dopo per esempio per quanto mi riguarda circa dall'ottanta quindi continuano ad uscire opere ma anche opere significative e importanti di cui non eravamo a conoscenza e che lui stesso non ricordava più è stato di una fecondità incredibile incredibile forse questa è una delle sue maquette a proposito di arte applicata legata al Pinocchio era per uno spettacolo e poi per la mostra al Palazzo Ducale prendeva queste scatole di legno raccoglieva queste cose nei suoi viaggi a Napoli piuttosto che nei vari giocattoli di latte e quant'altro li assemblava a creare queste costruzioni che finivano alla Galleria Giulia giù a Roma dove c'è stato tutto un periodo dove le sue opere Grimm e quant'altro sono stati presentati con Walter Cantatore personaggio importante e altri grandi artisti il rapporto con i bambini non si può abbandonare e dicendo però questa cosa che Gianni Rodari aveva sottolineato e colto il segreto con i bambini con i ragazzi non è di truccarsi da bambino ma di essere di restare un adulto che però sappia conservare usare la fantasia per modo che l'incontro con lui possa avvenire anche su terreni che di solito sono esclusi dal rapporto tra bambini e adulti questo segreto Lele lo possiede spontaneamente hanno realizzato a metà degli anni settanta un grande spettacolo ad isole alla spezia che è rimasto importantissimo ogni tanto qualche dunodo andrebbe ripreso perché era lavorare a tema insieme ai bambini in un laboratorio permanente e significativo questo è il manifesto storico qui citato al 74 è il bozzetto ed era stato è stata un'esperienza che è rimasta importantissima con Gianni Fenzi come regista poi convegni infiniti poi tutta la collana dei libri per gli editori riuniti che poi questa collaborazione è cessata lo studio che punto siamo abbiamo ancora qualche due minuti due minuti allora scorriamo il tutto abbiamo detto un sacco di cose questi sono i primi lavori a Losanna mentre la sua nello studio alle Col de Bosar insieme ai registi con cui avrebbe fatto poi un percorso significativo Fersene Trionfo aprendo tutti i teatri per esempio a Genova cioè aprendoli proprio inaugurandoli dopo la guerra con le ricostruzioni fondamentale l'incontro con Gasman ai parchi di Nervi nel 49 con spettacoli dedicati al balletto e Gasman vede sta roba assiste lo chiama e dopo una prima incomprensione in cui Luzzati non è molto interessato a lavorare poi nasce una collaborazione che andrà avanti fino al film con Municelli i titoli di coda dell'armata di testa dell'armata Branca Leone quindi vita ricca questi sono tutti il primo tipo di disegno che lui negli anni 60 portano insieme a Trionfo la borsa di Arlecchino che è rimasto un fenomeno importantissimo con Carmelo Bene Claudia Lorenz Renzo Arbore lì sono iniziati tante di queste hanno portato tutto il teatro di Ionesco del Gilderode Beckett a Genova in questo spazietto questo è il manifesto che veniva stampato con tecniche artigianali eccetera eccetera questo è un arazzo un grande arazzo di un metro e mezzo per cinque che era per le navi della Costa Crociere tema flauto magico quindi le materie c'era proprio una fabbrica che lavora queste sono le decorazioni all'interno delle navi ma noi ne abbiamo circa cinque seicento poi però ce ne sono non so duecento trenta la tua cento venti ce ne sono ufficialmente poi c'è qualche non so c'è una galleria che in tutta Italia ci sono ma decine di migliaia anche perché i teatri che alcuni hanno fatto proprio un'opera meravigliosa di conservazione tipo il maggio musicale fiorentino hanno dei depositi di opere ma non solo sue di Savinio di tutti questi grandi signori che andrebbero anche un po' messi in conoscenza in fruizione in studio invece sono delle sorte di luoghi blindati e ogni teatro ha dei depositi significativi la Fenice il Carlo Felice è l'unico teatro che è riuscito non so se si può dire ma lo dico a fare un'ambassa di tutte le sue opere ne ha fatte tante sono tutte in collezioni era diventato un'ironia uno slogan ma avendo fatto tanti spettacoli d'opera diceva dove sono le opere di Luzzati ma sono rimasti due bozzetti due figurini per la cenerentola vabbè vabbè ma non gliene poteva importare di meno lui non era interessato comunque no questo è un forno dove lui si mette non voleva che le cose andassero in giro non era geloso tutt'altro no 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 a Lucca per un festival per un attimo c'è stato panico a parte Careltore il disegnatore che lo proprio voleva si era innamorato del suo bozzetto del sarastro grande e Luzzati stava per cedere poi eravamo assieme mi chiede cosa facci glielo do glielo regalo dice facciamo un cambio opere poi se mai ne faccio un altro insomma proprio che era una delle opere emblematiche lui aveva cercato di darlo via quello Giulio ha detto no questo non deve essere dato via ma via così dice no un'amica iraniana dice siccome sarastro era persiano cioè la motivazione era questa bellissima con il belle che glielo voleva dare il mio marito che diceva no questo non può ci serve non ci serviva non serviva più ma non voleva che cose così magnifiche meravigliose venissero sparse ma rientra un po' in quella mancanza di calcoli che facevano riguardo allo sfruttamento dell'opera oltre che al calcolo ci raccontava che fino agli anni settanta per uno scenografo il bozzetto almeno nel suo caso così recitava lui non era importante una volta che aveva svolto la funzione che era tradotto in grande telo fondale eccetera non valeva e quindi lui li regalava ai registi non so ci sono registi che hanno 40-50 opere originali perché non era valore poi negli anni sessanta fine una galleria gli chiese le sue robe e da lì fu fatto uno scempio totale nel senso che le tavole della cinema d'animazione in gran quantità sono state vendute sì sono qualche d'uno aveva chiesto dei prestiti quando sono arrivato io c'è il flotto magico qualcosa il flotto magico aveva prestato 20-30 tavole a qualche d'uno di cui non ricordava il nome chiaramente ricevute zero per cui queste 30 tavole scomparsa so che nel tempo un collezionista con un nome specifico andava a chiedere autentiche ma superiamo nel 2000 la città dona sto spazio nasce un museo porta a Siberia 2004 viene sacralizzata dall'amico Renzo Piano che lo chiama il genio saggio e ancora oggi con fatiche con peripezie siamo in un momento che dovrebbe concludersi rapidamente di costituzione di fondazione che ci accrediterebbe con il ministero nelle collaborazioni consolidate con il fondo Giannini e con la Tosse una delle cose riguardo alla domanda di quante opere ci sono depositate che si può fare ricordo al Boburg Luzzati non vuole chiedere in prestito nulla ai teatri perché alcuni chiedevano un fee dicevo io devo pagare il noleggio delle opere per fare una mia mostra le rifaccio oppure cerchiamo opere da altre parti e così lo fece per tante altre occasioni si possono fare dieci mostre in contemporanea significativa un esempio è la mostra ebraica che ha presso il museo della sinagoga di Genova tre anni fa raccogliendo solo una parte non cospicua a Luca ci fu una mostra grande proprio su tutto il suo percorso ebraico insomma grazie mille ci sarebbe tantissime altre cose da dire ma il tempo è poco per cui adesso vi direi di lasciare la parola a Paolo Eric che invece ci introdurrà un po' grazie ci dobbiamo tramassare no vengo io perché conosco rigiriamo va bene intanto chiederei alla regia di mandare il primo video grazie a causa di Battista tu sei tornare tu sei tornare jaloux jaloux e io non ho 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 fermo la porta questa porta è perciò perciò Bene, ovviamente vi chiederete perché sono partito da un film dal vero che è l'Esanfant du Paradis appunto di Marcel Carnet scritto con Jacques Prevert perché l'immaginario di un animatore non è limitato all'animazione anzi comprende parecchie discipline da cui il cinema ovviamente ma anche molte altre arti esistenti e proprio per questo forse il cinema e l'animazione riescono a parlare e interagire così bene con esse l'immaginario cinematografico di Giulio Giannini si forma fin da bambino proprio grazie alle sue frequentazioni alle sue parentele per esempio con lo zio che era comproprietario del cinema corso del Salone Margherita che gli passava dei pezzi di pellicola che lui rimontava per dei piccoli cineforum e questo mi ha sempre fatto un po' pensare a Fanny Alexander cioè l'immaginario di un ragazzino che vede insieme Cabiria con Tom Mix con Zala Morta riuniti in un salottino del film De Siecle e questi Le Jean Fan du Paradis come anche i film di René Cler cioè sono sono film sono cinema diciamo vorticosi in costume e che in cui il magico irrompe in un certo senso all'improvviso nel quotidiano come era un po' anche nei film che avrebbero fatto con Luzzati Giannini Giannini quindi anche grazie alla chiedo scusa un attimo Giannini poi soprattutto nel dopoguerra poter appunto procurarsi film capolavoro come questi e quindi formare un diciamo un occhio legato al cinema ma anche alle esigenze del suono e del colore in più ero dato fin dall'infanzia all'ascolto della musica grazie alla madre che era una melomane anche una dischetta pianista mi pare comprese forse prima prima degli altri quanto la musica e l'immagine fossero correlati e questa è una costante basilare proprio del cinema d'animazione che permette di basare le immagini sulla colonna sonora di di legarle molto più di quanto possa fare il cinema tradizionale quindi Giannini a detta di tutti sapeva vedere e sentire le sequenze a cui dava vita come pochi altri perché i suoi fogli macchina che sono la guida per sincronizzare movimenti immagini e sonore avevano l'aspetto quasi disparatiti che certe volte erano già nella sua mente nel momento in cui animava in cui poi andava a sincronizzare se l'animazione come teorizzava McLaren consiste Norman McLaren il grande animatore del National Film Bureau del Canada consiste nel creare movimento cioè ciò che conta non è nel singolo fotogramma ma negli interstizi tra un fotogramma e l'altro quindi l'animatore è colui che riesce a gestire a dominare questi spazi per creare il vero movimento non vè dubbio che Giannini fu un animatore di assoluto talento un vero disegnatore del movimento in grado di regalare ai personaggi la personalità più adatta a loro che veniva espressa nella recitazione nel comportamento e nell'espressività forse è stato un destino pensando a Giannini e la sua passione da ricordare per la fotografia e il colore che ne fecero come dicevamo prima probabilmente il miglior operatore del colore e uno dei migliori direttori della fotografia del dopoguerra forse sia stato anche che i due primi lungometraggi a colore in Technicolor furono due film d'animazione La Rosa di Bagdad di Antongino Domenghini e i fratelli di Namite di Nino Pagot di Nino Pagot Quanto a Luzzati come ha raccontato molto meglio di me Sergio è stato un artista poliedrico dell'enorme talento immaginifico e a parte le abusate influenze sciagalliane che comunque si ritrovano nel suo lirismo ebbe una sicuramente influenza anche da parte di Miro di Klee e ammirava tantissimo la coerente libertà di Pablo Picasso che non solo per la sua maestria nel trattare la materia ma anche per il rispetto con cui si dedicava a qualsiasi disciplina come ad esempio la ceramica a cui si lega tra l'altro l'incontro a cui accennava Sergio che avvenne da come raccontava Luzzati a Valori vicino a Cannes dove Picasso aveva il suo atelier di ceramica per tutti questi artisti secondo Luzzati cercavano ciò che il bambino che disegna non cerca ma trova ovvero la bellezza che da gioia risveglia dal sonno dell'abitudine ebbe però anche un grande debito con Sergio Toffano che forse questo riguarda ancora di più il suo rapporto con l'animazione Sergio Toffano penso lo conosciate era un grande illustratore attore teatrante che inventò il signor Bonaventura che con i suoi fumetti in rima diciamo regnò sul Corriere dei Piccoli dal 17 al 50 e credo parlando di animazione fu basilare per capire il mondo luzzatiano e anche di Giannini come un mondo in cui si fondano teatralità ironia fiabesco e dissacrazione la stilizzazione con il colore e anche un pizzico di mistero e di sana cattiveria non a caso tutte le storie originali scritte da Luzzati anche per l'animazione sono in rima e in esse il ritmo della parola suggerisce a pari di quello della musica la scansione delle sequenze Rodari con cui girarono insieme il castello di carta nel 62 che era tratto anche questo da un albo di Luzzati considerava Luzzati un uomo capace di conservare la propria fantasia pur essendo un adulto e quindi in grado di esplorare territori normalmente esclusi dal rapporto adulto-bambino nelle sue scenografie si mescolavano i pupi siciliani il museo delle cere elementi rococò Klimt Chagall bambole maccaniche Luis Carroll il corsaro nero dive del cinema la lanterna di Genova Trini e Merletti erano dei forzieri che si aprivano veramente su memorie meraviglie ma la sua più grande invenzione secondo il critico storico Gianalberto Bendazzi era l'invenzione del concetto di maschera una suprema pratica della caricatura che si applica a tutto ciò che può essere detto rappresentato come caratteristico della caricatura questa creazione sa aggiungere con pochi tratti di carboncino all'essenza delle cose ma in più viene conunghiata assieme alla pittura in virtù di questa si espande e si arricchisce di discorsi cromatici di suggestione materiche sia Giannini che Luzzati erano scenografi di formazione e probabilmente in questo anzi sicuramente in questo trovarono un ulteriore motivo di intesa Lele era in assoluto una grande artista del colore Giugi era a sua volta un abile disegnatore che all'occorrenza sapeva ridisegnare i personaggi e i dettagli dell'altro perché come si sa come diceva anche Cristina per fare animazione occorrono ripetere i disegni di cine se non centinaia di volte per ottenere la fluidità del movimento aveva davvero un'innata capacità di animare ovvero di dare l'anima a personaggi di carta che erano bidimensionali e inerti abbiamo chiamato a questo incontro elogio all'imperfezione da una definizione che la stessa Carla aveva dato in un suo intervento non certo perché il lavoro del duo risultasse sciatto improvvisato ma per distinguerne la peculiarità rispetto per esempio alla collaborazione che ebbe con un altro grandissimo artista che era Leo Lioni con cui Giannini lavorava sia negli anni 60 che negli anni 80 e in cui in tal caso si verificò l'incontro tra due perfezionismi quasi maniacali poiché Lioni forniva elementi e materiali impeccabili e perfetti che andavano dunque riprodotti perfettamente anche nel loro preciso intento simbolico pedagogico mentre le tracce luzatiane lasciavano spazio all'improvvisazione dell'animatore erano forse per usare una metafora come bambini ansiosi di mettersi a correre a giocare talvolta senza una meta precisa per il solo piacere di mettersi in movimento una volta portati nel mondo i suoi personaggi Lele si affidava con piena fiducia a Giugi per insufflare in essi la scintilla della vita e vedendo davvero quelle figurine di cartone che si fermano a prendere fiato dopo una corsa con i loro inchini un po' buffi un po' beffardi e le movenze degli artisti consumati da palcoscenico in cui il cuore pare letteralmente battere in petto e sicuramente la vita e l'anima più che il movimento che percepiamo in essi il musicologo Sandro Cappelletto con il termine di oscuri della fantasia per Giannini Luzzati che è molto efficace per esprimere la complementarietà ma mi piace ricordare anche la definizione della loro tecnica di Jean-François Léaglioni che è un eccellente animatore francese di cui forse qualcuno di voi avrà visto le stagioni di Louise che è uscito di recente in Italia e che definì il loro lavoro con la tecnica del decoupage ricordiamo che loro usarono prevalentemente in tutte le opere era un lavoro veramente da funamboli in cui doveva essere sempre buona la prima dato che nell'animazione a passo 1 pre-digitale non c'era spazio per ripensamenti gli errori si pagavano al momento poi del montaggio e quindi era un mestiere da funamboli e qui mi ricollego allo spezzone delle Sanfandu Paradis che il cui titolo iniziale sarebbe stato le funambule cioè i funamboli perché davvero sembra di avere a che fare con dei salti in banchi della fantasia sempre sul filo della caduta in un lavoro comunque affrontato sempre con entusiasmo e allegria come diceva Carla Rezza salvo sporadiche arrabbiature di Giugi quando si trovava una giunta una modifica improvvisata di Luzzati che mandava a ramengo la coerenza dell'animazione come dicevo Giannini che aveva vinto a 25 anni solo il suo primo nastro d'argento per il suo lavoro sul colore fu davvero un direttore della fotografia nel senso di responsabile dell'impatto visivo delle immagini ma fu anche a tutti gli effetti un coautore in quanto era l'autore della fotografia cinematografica lui era quello che scriveva con la luce e scriveva col movimento aveva tra l'altro già compiuto alcune incursioni nel mondo dell'animazione che purtroppo andate tutte perdute come per esempio nel primo dopoguerra con l'amico Gianberto Vanni che divenne poi un eccellente pittore in cui fecero un esperimento sempre in decoupage commissionato da un conoscente che aveva a che fare col piano Marshall e che riguardava l'animazione di un'impastatrice che usava la farina appunto data all'Italia soprattutto fece un esperimento su un personaggio insieme a Francesco Cittomaselli altro grande regista che è ispirato al personaggio di Fortunello che era un altro personaggio dei fumetti americani di Frederick Barhopper che da noi era conosciuto sempre grazie al Corriere dei Piccoli con il nome appunto di Fortunello che è interessante perché oltre che la colonna sonora basata sulla Così fan tutte di Mozart diretto da Karajan aveva anche i movimenti ricavati dal primo Chaplin del periodo Keystone quindi sarebbe stato interessante proprio poter vedere il tipo di movimento che ne sarebbe uscito e Luzzati cercava da tempo qualcuno che gli permettesse di portare la propria arte verso altre modalità espressive e verso nuovi linguaggi in Giannini trovò non solo un tecnico capace di muovere i suoi disegni ma un artista affine per cultura sensibilità e visione ma con in più la competenza e la consapevolezza necessaria del mezzo cinematografico e delle problematiche legate all'animazione si conobbero come aveva accennato anche Sergio tramite il drammaturgo Alessandro Fersen che era collaboratore di Luzzati insegnante di recitazione a Roma e qui aveva frequentato quella specie di garage salotto di Giannini in via dei Monti Parioli dove si riuniva praticamente il meglio del mondo cinematografico e in seguito grazie a Luzzati anche quello teatrale li unì la comune passione per il teatro di marionette che è un elemento anche abbastanza classico del loro cinema Giannini aveva costruito un teatro dei buvrattini e chiese a Luzzati di dipingergli il boccascena da quel momento come si dice fu storia e fu lo stè come accennava ancora Sergio Giannini anzi scusami come accennavi tu fu Giannini stesso a costruire il loro strumento di lavoro che adattando una cinepresa debri 35 mm come macchina verticale per la ripresa passo 1 fotogramma per fotogramma aggiungendo una pressa imperniata sul suo centro che serviva a bloccare i personaggi di carta che erano mossi tramite dei sottili fili da pesca e si alzava parallela rispetto ai due piani di ripresa di cristallo su cui stavano i personaggi e lo sfondo in modo che nel momento in cui si alzava la pressa i personaggi non si spostarono dato che come dicevamo bastava un minimo spostamento per alterare tutta la scena e nel tempo fu migliorata con la visione reflex e la manovra elettrica e fu usata per tutti i film fino appunto al flauto magico che necessitò di una macchina da ripresa più complessa che purtroppo andò perduta mentre la prima verticale custodita alluzzati insomma quello di Giannini era un insieme di perizia tecniche e di arte di arrangiarsi sintetizzato da di tutte e due nel senso che si si di entrambe ah si si no no certo intendevo a livello tecnico proprio come dimostra anche un semplicissimo cordino che lui aveva inserito nella macchina per permettere la messa a fuoco da qualsiasi posizione e per una di quelle curiose coincidenze che amiamo noi fa stabilire nella vita degli artisti era una debria anche il modello che Gigavertov il cineasta sovietico aveva animato nel suo film manifesto l'uomo con la macchina da presa ed è una definizione che direi calza a pennello proprio a Giannini dopo un primo il quartiere operativo viene stabilito appunto in zona Prati prima in via Nicotera e poi in via Pimentel ed è come dicevo diventerà una sorta di ritrovo per artisti intellettuali quali Monicelli Antonioni Paolo Poli e Fellini dopo un primo esperimento con sagome di metallo su una superficie magnetica che si è intitolato I due guerrieri si trova nel decoupage col cartoncino la tecnica più congeniale e nei caratteri tipici della commedia dell'arte della chanson dei gest i temi ideali per la narrazione il personaggio di Pulcinella emerge dagli altri prima in un corto abbandonato ma che forse si può considerare anche compiuto nonostante la mancanza di sviluppi nella trama era Pulcinella il gioco dell'oca mentre in modo più compiuto e strutturato Pulcinella arriva col secondo video che chiedo grazie la tarantella qui la voce recitante tra l'altro è di Giulio Questi che era un regista con cui Giannini girò alcuni bellissimi documentari è un Pulcinella come vedete prima versione un po' diverso da quello che diventerà poi iconico se mi è consentito assomiglia un pochino al robottino sferico dell'ultimo guerra stellare anche nel modo di muoversi quindi per dire che il buon design funziona sempre poi è programmazione sabato se qualcuno vuole vedere l'opera perché è anche abbastanza difficile da trovare la tarantella di Pulcinella perché poi non è stata edita in DVD per cui se qualcuno è interessato sabato c'è la possibilità di vedere dura due minuti tutto però merita comunque doveva essere un carosello infatti doveva essere un carosello per la barilla che però non lo accettò come del resto capitò anche per altri spot come la Fanta che giugirò con Marco Biassoni e Winston decretando un rapporto non felice col mezzo pubblicitario in un periodo in cui invece altri studi furoreggiavano come per esempio la gamma film dei fratelli Gavioli o lo studio Bozzetto che in carosello trovarono veramente un florido settore questo questo gran rifiuto da parte della tv commerciale però non li fermo anzi gli diede ulteriori stimoli e comunque già in questo avete potuto vedere già la cadenza ben strutturata tra immagini testo e musica che diventerà decisamente magistrale già nel terzo video grazie che si intitola i paladini di Francia ovvero il tradimento di Gano di Maganza del 60 una leggenda nel castello ci sono i mori che ne combinano di tutti i colori di viola di rosso si rompono rosso di verde di giallo vanno a tempo di ballo di rosa di azzurro di blu e il castello non c'è più ecco qui diciamo ci sono dei toni quasi psichedelici nell'animazione c'è già tutto il loro percorso cinematografico la ricca tavolozza luzzatiana la scenografia di tipo teatrale con quinte palcoscenici quadri che rimandano anche alle tradizionali rappresentazioni di piazza come il punto orale come i teatrini e le figure apparentemente infantili che vengono mosse comunque con grande dinamismo da Giannini che gli conferisce personalità ebrio il testo è di Luzzati su cui si innestano le leggende del ciclo della chanson des gestes il ritmo è dato appunto dalla voce del narratore e nel solco anche delle tradizioni dei pupi siciliani e dei cantastorie infatti il narratore che Arnoldo Fo ha ripete per tre volte canta 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 storie e non solo riprende anche in maniera abbastanza raffinata i cicli narrati negli arazi e nelle vetrate medievali ma l'animazione ripeto ha dei guizzi veramente sperimentali e psichedelici oltre che molto ironici perché i paladini per quanto abbigliati da eroi sono anche molto umani e cialtroni a volte vengono sedotti facilmente da cosiddette fate e si perdono spesso e volentieri sono già decisamente personaggi di Brancaleone tenuto conto della permeabilità dell'epoca con il mondo del cinema romano non stupirebbe che molti spunti venissero proprio da questo cartone come anche soltanto diciamo le gag tra Rinaldo e il suo cavallo che ha bisogno di essere spronato continuamente con un pungolo perché si pianta esattamente come il cavallo di Brancaleone c'è un'altra cosa il finale che è decisamente cruento nella regolamento dei conti con i Saracini rimanda anche quello secondo me al film di Monicelli che si apre su una scena altrettanto cruenta ed è anche la dimostrazione di come Luzzati e Giannini avessero ben chiara anche la ferocia nascosta nel racconto popolare un'altra cosa è l'antro del mago Gradasso che poi chiedo alla regia di mandare che è molto simile a un disegno di Picasso appare come una sorta di selva oscura in cui molti personaggi vanno a perdersi e questa fuga in una selva ritornerà in altri personaggi che da Pulcinella e Papagheno che finiranno spesso per perdersi e poi ritrovarsi quindi si può mandare il video perfetto dopo questa arriva quella che probabilmente sono i veri capolavori del duo partendo dalla Gazzaladra in cui c'è anche la rivelazione dell'importanza della componente musicale simbolica della componente musicale per il personaggio all'interno dell'opera tanta roba sì è quello comunque dopo ci sarà subito dopo l'incontro la proiezione dell'omaggio Rossini in sala Cervi per cui sia la Gazzaladra che l'italiana d'Algeri che in Italia e l'opera di un duetto di gatti mi sono dilungato troppo quindi direi proiettati dopo direi soltanto sia la Gazzaladra ha dei rimandi all'animazione di Norman McLaren che omaggia anche nel finale il suo corto il Merle e la Gazzaladra che nell'opera di Rossini è decisamente è un personaggio marginale e qua diventa l'assoluta protagonista ballando come una consumata stella del musical e con movenze anche molto simili a Totò nell'italiana in Algeri che è il film successivo del 68 invece a risaltare il personaggio di Isabella che nel suo ammiccare nel suo prendere in giro i suoi spasimanti dimostra proprio l'alta classe di Giannini nel far recitare i personaggi Pulcinella è il se possiamo dire forse è l'apice di questo rapporto tra musica immagine e movimento che trova qui veramente la perfezione perché sia nell'inizio non musicale in cui si inventa una sorta di gramello simile a quello della linea di Cavandoli tra Pulcinella e sua moglie ma soprattutto nel seguito in cui tra metamorfosi fughe esplosioni di invenzioni grafiche colorate c'è veramente una diciamo l'apice della creatività dei due del movimento del movimento come dire coniugato alla musica qui si può dire veramente che Rossini sia un coautore con gli altri due perché la fusione tra le loro opere è assoluta si raccontava che riuscisse anche a fischiettare le opere al contrario del fratto magico infatti del gran che era conoscitore poi delle opere sapeva il fratto magico al contrario a forza di lavorare alla moviola lo sentiva continuamente anche al contrario quindi c'era questo musicologo inglese che tagliò la partitura perché poi se qualcuno lo vede e conosce il fratto magico vedrà che bancano dei pezzi la regina della notte c'è il ritornello due volte invece c'è una volta sola lui da buon inglese tagliò tranquillamente e dice l'unica persona al mondo che sa il fratto magico al contrario era un grande lavoro anche quello cioè Giannini faceva il lavoro di 4 o 5 persone perché comprava la pellicola poi girava montava poi andava c'è una città dove rompeva le scatole a tutto il mondo dicendo i colori quelli dovevano essere quelli diluzzati non altri ma infatti era molto molto rispettato per questa sua precisione dunque diciamo visto che il tempo è poco dice ancora diciamo in due parole forse sul flauto magico facciamole che fu davvero la produzione più anche la prima che aveva anche una produzione estera che aveva un coproduttore con taglia film trovato dalla gente di Lerio Luzzati e che dovete impiegare appunto altri tre animatori per aiutare che erano Milena Kubakova Jan Trummel e Manfredo Manfredi che girò la bellissima scena della seconda area della regina della regina della notte usando il disegno in fase qui diciamo diciamo che preferirei far vedere l'ultimo perché quello non avranno poi la possibilità di vederlo perché anche il flauto magico è in progermazione in prossimi giorni e quindi diciamo richiedete oltre che alla costruzione appunto da parte di Giannini di una verticale apposita richiedete anche un utilizzo di tecniche di animazione diverse dal solito decoupage fu utilizzato per esempio le ombre cinesi sullo stile di Lotte Reininger che era la regina delle ombre nonché l'autrice del primo lungometraggio animatico e ci è arrivato perché il primo in realtà probabilmente fu Quirino Cristiani nel 17 e poi venne usato anche un tipo di animazione per montaggio per luci e appunto disegno per fase in cui si vede il disegno che si compone e si ricompone fu un'operazione anche molto stancante per i due perché richiedete veramente notevole lavoro e fu integrata appunto con scene dal vero fatte da Marcello Bartoli della Compagnia della Rocca con cui collaborava Luzzati e forse che non furono così gradite da Giannini queste aggiunte avrebbe sempre voluto toglierlo quando fecero il restauro disse ma perché non togliamo l'attore mettiamo dei cartelli che spiegano la trama ma Lele non fu d'accordo quindi in ogni caso quello che forse è il limite vero del flauto magico non risiede certo nelle animazioni né nella regia del duo risiede proprio nella struttura del flauto magico che è talmente simbolica e narrativamente sfaccettata che porta davvero un po' a limitare la libertà degli autori e dopo questo seguirono alcuni lavori appunto su commissione anche per la televisione svizzera con cui eseguirono i Leon in cui arrivò Antonella Battiello dagli anni Ottanta che fu un aiuto fondamentale per Giannini anche fondamentale per Carla per ricostruire poi l'archivio e diciamo arrivò l'esperienza dell'opera buffa che voleva essere il loro ritorno in grande stile ma che probabilmente anche legato alle loro nuovi impegni ormai Luzzati era un autore richiesto in tutto il mondo Giannini aveva cominciato un'importantissima esperienza di insegnante al centro sperimentale di Roma grazie a cui formò tantissimi personaggi tra cui Maurizio Foresteri che è l'attuale presidente di Asifa Italia ed è anche fu anche un suo intimo amico e quello fu probabilmente la fine della magia creativa non certo dell'amicizia qualcosa si vede secondo me ancora in Gerusalemme e si vede soprattutto nella casa dei suoni di cui adesso per chiudere vi proporremo il primo segmento animato che secondo me davvero raggruppa tutta la poetica dei due dall'insieme di teatro musica pupazzi favole e anche nella magia con cui il cinema il teatro e la musica ti trasportano quando ti ci abbandoni mi scuso per essermi dilungato e vi lascio all'immagine bisognerà fare una seconda edizione il prossimo anno la seconda parte perché comunque ci sono anche tantissimi film che abbiamo dovuto non mettere in programma parlando di animazione ci sono riferimenti veramente abbondanti perché sono tantissimi sì sì ma anche perché loro non erano citazionisti ma avevano veramente un insieme di influenze di suggestioni che emergevano naturalmente dalla loro opera ripeto non andavano a prendere il merlo di McLaren per copiarlo ma perché era talmente istintivo poi replicare certi parte del loro immaginario esatto del loro archivio della memoria esatto e penso che in questo segmento sia abbastanza ben rappresentato anche se in un certo senso è una specie di congedo quindi vi ringrazio per l'attenzione mi scuso ancora per essere sforato se c'è qualche domanda prima vediamo il video poi dopo magari sentiamo se c'è qualche domanda anche dal pubblico grazie 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 sentendo e incalando proprio una sinfonia che va su e poi perfetta ecco quindi quello intendevo per la sincronizzazione perfetta tra immagine suono e colori non so se c'è una domanda del pubblico abbiamo veramente poco tempo mi dispiace ma veramente il materiale tantissimo ci sarebbe tantissime cose da dire ancora sul lavoro di Giannini e sul lavoro di Luzzati io prima di tutto faccio i dovuti ringraziamenti agli ospiti a Sergio Noberini Elisa Pezzolla che è venuta da Genova per noi a fare dei laboratori con i bambini a Carla Rezza Giannini per la testimonianza che ci ha portato ma anche per l'aiuto che ci ha dato nella ricerca dei film insieme alla Cineteca di Milano e l'archivio Giannini perché la Cineteca di Milano ha un archivio Giannini di tutto il materiale ringrazio tantissimo Eric Rittatore l'associazione Carpone e Bendazzi che comunque non è potuto venire ma ci siamo visti a Genova abbiamo parlato di questo incontro perché comunque come tutte le cose sono frutti di un lavoro di mesi di tante persone che sono anche qui in sala Simone Frattini Giuliana Valentini sempre del Dipartimento Educativo tutti i volontari che ci hanno aiutato e continuano a aiutarci per cui è sempre veramente il frutto ogni rassegna ogni omaggio ogni lavoro di tante persone che si mettono insieme come poi infatti abbiamo visto poi quando le persone si uniscono hanno idee simili hanno sensibilità simile immaginari simili poi escono anche grandi opere grandi lavori noi non abbiamo fatto altrettanto però cerchiamo almeno di fare in modo che gli altri possano vedere con il nostro piccolo che mettiamo diffondiamo il più possibile questo materiale infatti per questo poi la rassegna non l'ho detto all'inizio noi l'abbiamo messa nella sezione kids ma non perché pensiamo che sia un cinema per bambini ma per dare la possibilità ai bambini di frequentare la sala perché magari inserita all'interno del festival normale tra virgolette nelle sale magari i bambini era più difficile che accedessero alle sale o venissero invece così hanno il loro accredito hanno una loro sala pensata per loro e possono riscoprire questi capolavori sul grande schermo non si offenderebbero di certo per cui non è una sezione kids a caso ma ci teniamo che siano sicuramente avrò dimenticato qualcuno però ringrazio tutti e spero davvero che ci sia una seconda edizione con tutto quello che non siamo riusciti a far vedere nella prima speriamo grazie ancora buona giornata grazie